La rivista internazionale Pulmonology ha recentemente pubblicato i risultati dello studio Ecovita, frutto della collaborazione dell'ospedale San Carlo di Potenza, l'ospedale San Giovanni di Dio di Melfi e altri otto centri italiani. Lo annuncia il direttore generale del San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando l'importante contributo scientifico del dottor Luciano Restivo, di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza dell'ospedale di Melfi e del dottor Carlo Acierno, di malattie infettive del San Carlo di Potenza, che hanno utilizzato l'ecografia d'urgenza del torace nei pazienti con sindrome respiratoria acuta di grado severo associata al coronavirus 2 durante le buie pagine dell'emergenza pandemica. La validazione del punteggio lusso a 12 zone, spiega il dottor Restivo, è tesa ad offrire un parametro di predizione della gravità della malattia da Covid-19 in termini di mortalità e di ricorso al supporto ventilatorio invasivo. A nostra conoscenza, lo studio Covid-19 è il primo che ha avuto l'obiettivo di validare il punteggio lusso in una popolazione così consistente di pazienti. La gravità della patologia è principalmente legata al coinvolgimento delle vie aeree inferiori, continuano i dottori Acierno e Restivo, con conseguenti polmoniti, insufficienza respiratoria, sindrome da distress respiratorio acuto. La TC del Torace ha rappresentato il gold standard nella definizione diagnostica e nella valutazione dell'estensione della patologia polmonare legata al coronavirus 19. Tuttavia, considerando l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, l'impegno di tempo e risorse, la difficoltà nel trasporto dei pazienti dai reparti di cura alle unità di radiologia, se ne è necessario validare e potenziare una metodica alternativa, facile da usare, riproducibile, non tossica, non invasiva, quale è l'ecografia toracica. Lo studio Ecovita conferma che l'ecografia toracica è una tecnica riproducibile, poco dispendiosa e atossica, utile per valutare la severità della malattia da SARS-CoV-2 e offrire una precisa stratificazione del rischio. La LUS, infatti, ha predetto accuratamente mortalità e severità del decorso clinico dei pazienti.